Musica Tre spettatori, ben ritrovati con l'informazione di Tere di oggi. In acquisizione dei 28 lavoratori di Acros in Acrea, stamane si sono tenuti due appositi incontri. Iniziamo da quello tra i sindacati e il sindaco di Crotone. Appena finito l'incontro con il sindaco, all'ordine del giorno c'era la questione dell'assorbimento dei 26 lavoratori di Acros da parte della Crea. Ci sono novità? No, c'è solo l'ultima parte conclusiva dell'operazione, almeno a quanto ci dice il sindaco, che sarebbe l'espletamento del controllo analogo, per il quale ci ha dato garanzia che oggi si insedia la commissione e che entro giovedì verrà usorito tutto il processo. Il controllo analogo lo diciamo per chi non conoscesse il termine, altro non è che il controllo da parte del comune, perché la Crea è un ente di proprietà del comune, i conti li deve avere in regola come ce l'ha il comune, questo è il controllo. È un controllo generico, non è specifico sull'operazione di fusione Acros. No, in generale, anche sui conti. È un controllo generico, forse si sarebbe dovuto fare anche prima, questo non lo so, però il sindaco ha dato garanzia che si farà entro giovedì e tra venerdì, al massimo lunedì, si procede con il primo step dei 28 lavoratori. 28 sono 28. Il primo step sono 28. La cosa più importante che ha marcato più volte oggi il sindaco è che ci tiene a far partire alla raccolta differenziata, ci tiene soprattutto a fargli raggiungere delle percentuali dignitose, tant'è che lui stesso si è recato dal curatore per vedere un attimino la disponibilità dei mezzi, perché se entrano nei lavoratori e non hanno strumenti per lavorare abbiamo fatto un'operazione inutile. E questo garantisce ancora di più quello che è il nostro obiettivo, che è l'assorbimento delle 62 unità lavorative. Quello complessivo, poi alla fine di questo percorso devono essere 62 i lavoratori dell'Acros, però la cosa importante che ci dà una certa serenità è che il sindaco ha lo stesso obiettivo che abbiamo noi, il sindaco è tutta la giunta, quella di finalmente lanciare il servizio di raccolta differenziata, quindi risparmiare sul conferimento di rifiuti solo di rubani. E' il progetto presentato dalla Presidente Amministrazione Comunale? Sì, un progetto un po' datato che per oggi può essere diciamo... Il progetto è quello, quello messo in piedi dalla Presidente Amministrazione Comunale. Esattamente, e quando un progetto è giusto, che si fa e c'è un'amministrazione responsabile che ne dà continuità, bisogna riconoscerlo. I tempi che si sono presi, nonostante il recente insediamento, è solo praticamente poco più di 48 ore, mi sembra che ci sia una sensibilità e l'impegno giusto. A fine settimana avremo gli esiti. Vedremo, vedremo. E il secondo incontro si è tenuto invece tra l'amministrazione comunale di Crotone, la dirigenza comunale e il Presidente della Crea. L'incontro con i sindacati è stato preceduto di questo passaggio dei 28 lavoratori dall'ACROS alla Crea, è stato preceduto da un incontro che l'intera giunta, i dirigenti del Comune hanno avuto con il Presidente della Crea, Rocco Gaetano. E' stato chiarito che non ci sono ostacoli, che l'acquisizione dei 28 lavoratori può essere fatta. Begare la questione del controllo analogo, ma che dovrebbe essere un fatto burocratico che si risolve. Questo è preceduto, quindi tutti d'accordo. Rocco Gaetano, secondo quello che è stato possibile apprendere, ha chiesto due righe da parte del sindaco per essere informato quando sarà possibile procedere alle assunzioni. Un minuto dopo farà le assunzioni, chiederà i mezzi dell'ACROS al Tribunale Parlamentare di Crotone, perché se vengono assunti i lavoratori, se ci sono i mezzi, l'operazione può essere fatta subito. L'inizio della differenziata può essere fatta subito, immediatamente. Dopo il risultato elettorale negativo per il Partito Democratico, urge stabilire la responsabilità di questa sconfitta, secondo Amedeo Nicolazzi, sindaco democratico di Petilia Policastro, con lui parliamo di questo, ma anche del consorzio di bonifica, Ionio Crotonese. È arrivato il momento di usare l'eccesoio all'interno del Partito Democratico. Ce lo dice Amedeo Nicolazzi, che è stufo di vedere che le cose non vanno bene. Ma non vanno bene perché è proprio il Partito Democratico che si è ridotto in queste condizioni. Adesso c'è davvero di fare un ripulisti vero, non si può continuare a amministrare il Partito Democratico e poi fare l'occhiolino ad altre formazioni civiche o altro. E fanno con un piede dentro il Partito Democratico e con un piede fuori. Vedo gente che dovrebbe gestire il partito, che poi va addirittura fino a quattro giorni fa, gente che è contro il PD, che va a richiedere firme per il referendum. Per nome di chi? Per contro di chi? Ancora adesso non gli basta la batosta che hanno subito a Crotone per la campagna elettorale. Ancora continuano a fare i giochetti, sono all'interno del Partito Democratico e allora o se li puliscono loro o quei pochi che ci siamo rimasti cambiamo aria. Quindi aria o si aprono le porte e si cambia all'interno o se no? O se no se ne andiamo e stiamo a casa perché stiamo bene pure a casa nostra senza fare politica perché la politica non è il nostro lavoro, è una passione. Qua invece purtroppo a Crotone non è così, mi dispiace. Il Nicolazzi parla anche da sindaco, vuole parlare oggi. C'è un problema, quello della gestione del consorzio di bonifica e i rapporti che questo consorzio deve avere con il territorio. Ma lo avete posto come sindaci? Come sindaci. Ci siamo riuniti a Petiglia Policastro e i cinque sindaci del Marchesato e insieme abbiamo deciso una linea comune di chiedere un incontro al Presidente Tocchio ma informando contestualmente anche il Presidente della Regione Calabria che dovrebbe pure stare attento a queste problematiche del territorio crotonese. Che succede, Chietano? Praticamente i nostri fiumi, noi diamo tutta l'acqua nostra, no? Diamo l'acqua potabile alla Sorical e la Sorical pensa di diminuirci la mandata dell'acqua perché non abbiamo pagato la bolletta. Noi chiediamo l'acqua nel comune di Petiglia, va a diminuire la portata di erogazione. Non perché manca agli altri comuni, perché secondo loro non abbiamo pagato la bolletta e ti devi stare zitto e devi sopportare. Adesso abbiamo notato che il fiume, il soleo, è asciutto completamente perché il Consiglio si bonifica, ha intubato completamente l'acqua lasciando a secco l'alveo del fiume, la fa un amore. L'acqua che è rimasta è putrefatta, ma qua stiamo scherzando. Gli agricoltori dell'Alto Marcosato sono senza acqua un giorno sì e un giorno pure e allora non va bene più. Ultima cosa che andremo a riferire pure, vogliamo capire. Tutta l'acqua che prelevano dal nostro territorio va a finire nei villaggi turistici, va a finire anche in dei comuni. Il Consiglio di Bonifica ricava grandi guadagni che nessuno sa, perché nessuno deve sapere quello che succede al Consiglio di Bonifica. Dove vanno questi soldi? Nel territorio dove prelevano l'acqua, che è il mio territorio, non vengono a fare niente, non ho visto mai uno scavatore. Sappiamo che i lavori li fanno vicini ai comuni, vicini ai comuni che sono vicini a certa parte politica, non va bene. E anche il Presidente Oliverio farebbe bene ad alzare pure il culetto dalla sedia e stare attento a queste cose, se ne puoi è inutile parlare. Prestavano denaro pretendendo in cambio tassi di interesse variabili dal 45 al 135%. Per questo i finanziari della compagnia di Crotone hanno denunciato in concorso per usura due persone che approfittando della loro influenza e della conoscenza del territorio riuscivano a individuare e selezionare cittadini e imprenditori locali in precari condizioni economiche, inducendole a richiedere prestiti di denaro. Uno dei due denunciati da tempo è emigrato ad Hamburgo, in Germania, prestava il denaro alle vittime a tassi usurari, servendosi dell'opera preparatoria del complice. L'attività degli investigatori si è concentrato su alcune equitanze di pagamento sequestrate in quanto sospettate di essere propedeutiche alla Commissione del reato di usura. Gli accertamenti delle fiamme gialle sono stati corroborati da una specifica perizia tecnica, la quale ha certificato che i tassi annuali applicati variavano da un minimo del 45% fino a un massimo del 135% ed erano quindi nettamente superiori al tasso di soglia minima trimestralmente calcolato dalla Banca d'Italia, oltre il quale si configura appunto il reato di usura. Ora parliamo di sanità locale. Il sindacato dei medici FIAS è critico in merito alle proposte di atto aziendale formulate dal commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, il dottor Sergio Renna, sentiamo. Il dottor Luigi Dorazio è il segretario provinciale della FIAS Medici. Ci ha chiesto di poter parlare dell'atto aziendale. L'atto aziendale è lo strumento che determina il funzionamento di un'azienda, quindi in questo caso dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Sì esattamente, l'atto di programmazione più importante che determina l'organizzazione e la gestione di un'azienda Dio solo sa per quanti anni avvenire, visto che l'ultimo atto aziendale, quello tuttora vigente, risale a... 2001. Esattamente, a 15 anni fa. La bozza di atto aziendale che la direzione strategica attuale ha messo in atto è molto preoccupante. È molto preoccupante per vari motivi. Uno di origine etica, cioè non è stato sottoposto preventivamente alle organizzazioni sanitarie, è stato fatto in piena autonomia. sindacali dell'azienda sanitaria. Quindi a voi non è stato... Compartone a quello della dirigenza medica. È stato fatto in piena autonomia e poi in una riunione c'è stato semplicemente comunicato. Ok? Perché loro sostengono che non vi è atto di concertazione nell'atto aziendale. Questo naturalmente noi non siamo d'accordo. Ma soprattutto sono molto contento che anche altri sindacati, Will, CISL, ANAO, sono stati concordi con quanto noi avevamo già detto precedentemente e abbiamo fatto presente sia all'azienda, sia al direttore generale Fatarella, sia alla regione. Fatarella è il direttore generale della regione. Sulla regione. Che poi dovrebbe dare il via libera a questa atto aziendale. Anche lui. Insieme ai commissari. Sia all'ufficio commissariale, ma sia anche al Ministero, al Ministro della Salute, indicando quali sono le incongruenze che noi abbiamo riscontrato. Allora, quale sono? Vogliamo entrare nel merito? Quali sono queste incongruenze? Sì. Allora, un atto aziendale deve rispettare innanzitutto le esigenze di salute della cittadinanza. rispettando quelle che sono le linee guida per la compilazione degli atti aziendali emanate dalla regione Calabria. Noi abbiamo visto che ci sono delle grosse discrasie, sia per quanto riguarda le linee guida, sia per quanto riguarda le strutture ospedaliere con il DCA 30 rivisitato, emanato da Scura, ma soprattutto con l'inefficienza di una rete territoriale che non è stata ancora ben determinata dalla regione. Nel senso che la regione, con un decreto, il 76 del 2015 mi sembra, ha attuato la rimodulazione della rete territoriale, rimandando però ad atti successivi cose molto importanti. Non per ultima il Dipartimento Materno-Infantile. Questo atto ancora non esiste. Quindi sulla base di cosa hanno potuto fare queste... Mi faceva vedere anche quest'altra cosa. Certo, questa è una schermata delle linee guida. Per la compilazione dell'attezzia. Compilazione dell'attezzia. Infatti, vi sono a monte gli obiettivi strategici regionali, le linee guida emanate, sulle basi delle quali deve essere fatto l'atto aziendale. Invece è stato deliberato dalla direzione strategica questo, il piano aziendale triennale, il piano di performance triennale, che non è stato fatto sull'atto aziendale tuttora vigente. Perché non c'è. Quello del 2001. Ma è stato invece improntato sull'eventuale futuro atto aziendale che ancora non è stato validato. Che non c'è, che non c'è. Ma è stato validato ancora, per cui ancora non esiste. C'è una fuga in avanti. C'è una fuga in avanti, ma questa fuga in avanti porta alla non attribuzione del budget ad alcune strutture che sono tuttora vigenti. Quindi, voglio dire, tutte queste cose... C'è una confusione. Non solo una grande confusione. Ma voglio dire, danno anche una grossa disfunzione ai cittadini. Ora, in piena autonomia la direzione strategica può deliberare ciò che vuole. Benissimo. Ma deve però prendersi le responsabilità di ciò che fa. Assolutamente. Questo è quello che noi vogliamo. C'è anche Gennaro Crugliano, che non ricordi di quale sigla sindacale è il responsabile provinciale. No, sono responsabile aziendale della FIALS Medici. Sempre della FIALS. Sì. Noi abbiamo già fatto presente le nostre osservazioni su questo atto aziendale che è in itinere e che con grande piacere abbiamo visto che non è condiviso nemmeno dalle altre sigle sindacali, come ha detto il mio segretario provinciale, il dottor Dorazzi, Anao, Cisle, Will, che hanno fatto un comunicato sulla stampa che è uscito in svariate giornate. quindi dove praticamente si denuncia questa incongruenza dell'atto aziendale nei confronti dell'attuale struttura sia ospedaliera che territoriale e nel discorso che non è fatto sicuramente a vantaggio della cittadinanza né delle attuali strutture. Noi in tempi non sospetti abbiamo commentato l'atto aziendale dicendo che alcune strutture che sono attualmente esistenti venivano ripescate in maniera inopinate, impropria perché le linee guida non lo prescrivono e siamo stati attaccati perché avevamo parlato contro quelle strutture. No, noi siamo ben contenti che ci siano quelle e anche di più. Siamo stati contenti per esempio che è uscita quella struttura di chirurgia vascolare non so da quale cappello da quale cappello mangi. Però ecco siamo contenti ma benvengano le altre strutture che sono esistenti e che non vengono declassate. La dermatologia, ma noi parliamo dell'oculistica e dello Torino che sono delle strutture chirurgiche che non possono e non devono essere penalizzate. Noi cerchiamo di lavorare il meglio possibile nell'interesse dei cittadini perché ci piace lavorare ma dobbiamo anche essere supportati dalla direzione strategica e da quelli che ci amministrano. Se con queste manovre veniamo penalizzati sia professionalmente sia nei confronti della cittadinanza perché non possiamo erogare i servizi che sarebbero utili e allora non vedo l'utilità di tutte queste manovre che vengono fatte diciamo a priori in che senso? Noi praticamente è come se applicassimo una legge prima che questa legge venga emanata. Allora noi attualmente siamo con un atto aziendale vigente quello del 2001 però stiamo facendo tutte le modifiche del prossimo atto aziendale e di quei tagli che purtroppo il piano di rientro bisognerà fare però noi li stiamo anticipando in tutti i sensi perché forse vogliamo fare i primi della classe ma poi i primi della classe non è che sempre vanno bene vengono chiamati secchioni insomma quindi cerchiamo di essere più diciamo propositivi nell'interesse della cittadinanza e di evitare di commettere errori che poi ci porteremo per i prossimi 10-15 anni perché non sappiamo il prossimo atto aziendale 15 anni è passata da lui non sappiamo quando verrà fatto se verrà fatto se esisteremo più come azienda sanitaria perché si parla di macro aree e quindi potremmo venire inglobati in altre realtà e quindi venire penalizzate definitivamente perché poi se veniamo inglobate nelle macro aree non saremmo più capaci di venire a galla quindi le strutture che ci sono ci resteranno e quindi col discorso come eravamo ragazzini chi è fuori e fuori chi è dentro e dentro cerchiamo di essere dentro nell'interesse dei cittadini noi siamo qui per lavorare e per collaborare anche con chi ci amministra l'importante è che veniamo coinvolti perché la concertazione che stabilisce la legge non è vero che non c'è concertazione non c'è contrattazione ma c'è concertazione in altre realtà l'hanno fatta altri direttori generali da noi purtroppo si è ritenuto solamente di informarci di questo ripeto si lamentano tutti alcuni in maniera più evidente altri in maniera velata perché alcuni non hanno diciamo il coraggio di dire quella che è la realtà però a noi non interessa l'importante è che si faccia qualcosa di buono per questa città e per tutti noi Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nel corso della settimana da poco trascorsa disposti dal questore di Crotone dottor Claudio Sanfilippo arrestato una persona controllate 37 persone sottoposte a misure restrittive identificate 120 persone di cui 6 cittadini extracomunitari controllati 169 veicoli effettuati 15 posti di controllo elevato una sanzione per violazione al codice della strada eseguite 8 perquisizioni e 13 controlli amministrativi presso esercizi pubblici e l'altro ieri personale del nucleo operativo tutela ambiente e territorio del corpo guardia ecozofile fare ambiente di Crotone insieme ai militari del comando stazione carabinieri di scandale nell'ambito di un'attività investigativa congiunta volta al contrasto del traffico illecito di animali protetti ha posto sotto sequestro 88 esemplari di tartaruga testuder manni specie protetta un 21enne di Ciro Marina MS che le riteneva presso la propria abitazione è stato denunciato per i reati di detenzione e vendita illegale di animali protetti e detenzioni degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze gli esemplari di età compresa tra un mese e dieci anni sono stati successivamente reintrodotti in natura in una zona protetta con la collaborazione del corpo forestale dello Stato ed è stata convocata per il prossimo 12 luglio la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Crotone si terrà il prossimo 12 di luglio il primo consiglio comunale è stato convocato per le 9 e 30 in prima convocazione è chiaro che questo consiglio sicuramente si terrà in prima convocazione all'ordine del giorno 11 punti quindi alle 9 e mezza del mattino cambia anche questa l'usanza di farlo di pomeriggio al primo punto c'è la convalide degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale nella consultazione elettorale del 5 giugno e turno di ballottaggio del 19 giugno 2016 elezione del presidente del consiglio comunale dovrebbe essere votato Serafino Mauro questo è il candidato il candidato del movimento che ha vinto le elezioni poi ci sarà il giuramento del sindaco che è un atto dovuto comunicazione del sindaco sul nome della componente dell'aggiunta che è già avvenuto manca ancora solo l'ottavo assessore definizione degli indirizzi per la nomina e l'assignazione dei rappresentanti del comune presso gli enti aziende e istituzioni presentazione linee programmatiche relative alle azioni di progetti da realizzare nel corso del mandato quindi il programma costituzione gruppi consigliari elezione commissione elettorale comunale nomina commissione per la formazione elenchi giudici popolari nomina commissione permanente regolamento del consiglio comunale modifica regolamento funzionamento organi di governo articoli 12 e 13 all'ordine del giorno c'è proprio il vademecum per mettere in moto il consiglio comunale della prima consigliatura del sindaco Ugo Pugliese la consigliatura è già iniziata con la sua elezione col suo insediamento con la nomina degli assessori adesso si completa l'iter perché tutte le procedure che devono che verranno messe in atto dalla giunta e dal sindaco quindi dall'amministrazione dovranno avere il via libera dal consiglio comunale è un atto importante veniamo da esperienze del passato non solo quelle dei 10 anni di Peppino Vallone ma anche a ritroso molti degli anni per esempio del sindaco precedente Pasquale Senatore furono caratterizzati da un consiglio che ballerino nel senso che molto spesso faceva mancare il numero legale e i due sindaci precedenti si sono dovuti a rabattare per gestire l'amministrazione per avere almeno i consiglieri minimi per poter andare avanti nel consiglio qualche mal di pancia nella maggioranza c'è l'attuale maggioranza però possono essere ricuciti sicuramente prima magari che questi mal di pancia diventano cancrene poi anche per il nuovo sindaco ci saranno problemi ma siamo sicuri che col piglio che ha preso Ugo Pugliese sicuramente riuscirà a mettere a mettere chiarezza a fare chiarezza tra i consiglieri della maggioranza oggi iniziamo questo viaggio all'interno della nuova giunta comunale faremo un'intervista ad un assessore al giorno per capire quali sono i programmi al drive il sindaco l'abbiamo sentito più volte è giusto sentire gli assessori Giuseppe Frisenda è l'assessore allo sport allo spettacolo ai giovani e al turismo che poi una delega pesante è quella del turismo anche quella dello sport col crotone in serie A Frisenda si presenti Sì sono Giuseppe Frisenda è uomo di sport mi piace definirmi così sono stato presidente della Libertas provinciale in questi anni ormai sono 12 anni Libertas è un'associazione è un ente di promozione sportiva nazionale che ha poi delle ramificazioni sul territorio nuoto parliamo di nuoto no parliamo di tutti gli sport poi ovviamente sono stato fino a poco tempo fa presidente di una società di nuoto e quindi nella nostra crotone raggiungendo penso buoni risultati un uomo che pensa con lo sport possiamo dirlo così sì dello sport abbiamo con lo staff che finora è stato insieme a me in questa avventura sportiva abbiamo cercato di gestire in modo professionale perché lo sport ormai non è visto più una volta soltanto come tempo libero oppure come mera attività fisica ma lo sport significa anche formazione lo sport significa impartire delle regole e mi piace dire che le associazioni sportive direttantistiche di crotone ma non solo di crotone tutta Italia costruiscono le fondamenta per i futuri cittadini il suo programma allora il programma non è il mio ma è quello della prossima crotone l'abbiamo già presentato ai cittadini durante la campagna elettorale adesso iniziamo a buttare le basi proprio per realizzare tutto quello che abbiamo detto di fare abbiamo idee abbiamo progetti entriamo nel merito di qualcosa per capire intanto le mie idee le che si intersegano una con l'altra proprio perché c'è una continuità oggi lo sport è anche turismo infatti negli ultimi tempi abbiamo avuto migliaia di presenze in città proprio per una serie di iniziative turistiche che portano dalla vela al giudo alla pallavolo insomma dobbiamo dire la verità abbiamo un management sportivo di alto livello qui a crotone il comune adesso deve mettersi al fianco di queste associazioni sportive proprio per dare un contributo non solo economico che quello è il meno ma proprio di consulenza e appoggio tecnico alla gestione degli eventi infatti oggi pomeriggio alle 16.30 come mio primo atto istituirò una task force per la gestione dei grandi eventi che significa la task force per la gestione dei grandi eventi significa avere un tavolo di lavoro di tanti soggetti a partire dal comando dei vigili alla crea all'assessorata dei lavori pubblici che offre i servizi proprio per programmare la gestione dei grandi eventi quando arrivano i grandi eventi la città deve essere pulita deve essere controllata il traffico deve essere quello giusto ho capito bene giusto ho capito benissimo non si deve lasciare più niente al caso dobbiamo far trovare a coloro i quali arrivano anche per la prima volta a crotone una città vivibile e decorosa questa è una prima idea che oggi pomeriggio istituzionalizzeremo e renderemo attiva partiremo infatti a seguito ci sarà subito una riunione col club averico perché adesso avremo gli europei di optimist e quindi dobbiamo far trovare una città pronta a questo evento perché arriveranno ad essere pronta per l'accoglienza sì 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 questa è una delle tante cose c'è la serie A pure che va in questa direzione certo ma questa task force nasce proprio per per esempio ho fatto l'esempio della vela ma la serie A è un grande evento che ci dovremmo trovare ad affrontare ogni qual volta il crotone giocherà in casa ogni 15 giorni ogni 15 giorni magari le prime partite no però vedremo se anche già dalle prime partite saremo pronti ma anche le navi da crociera che arriveranno 5.000 persone alla volta ne abbiamo una per il 23 agosto mi hanno comunicato non possiamo essere impreparati a questo evento arrivano dei turisti a crotone e dobbiamo essere pronti ad accogliere infatti in questa task force è stata volontà del sindaco ma anche mia di coinvolgere le associazioni di categoria in modo da poter fare sistema su questa riva magari non far trovare i negozi chiusi quando arrivano questi turisti e insomma un'organizzazione però c'è un altro c'è un altro turismo oltre a quello organizzato quello delle crociere quello dello sport c'è il turismo fai da te che d'estate siamo già in estate a crotone arriva per questi turisti che cosa avete in mente di fare questa estate allora intanto è vero che agosto comunque è di per sé il momento clou dell'estate siamo arrivati da 48 ore io ad oggi non ho trovato nulla di programmato questo per l'onor del vero lo devo dire non c'è nulla di programmato da oggi sto iniziando a fare un punto della situazione anche dal punto di vista di bilancio perché i soldi ci vogliono anche senza soldi le messe non se ne cantano mancano le messe si cantano infatti quindi sto facendo oggi pomeriggio incontrerò con l'assessore Proto al bilancio per vedere di capire che cosa c'è attualmente organizzato non c'è niente è normale che qualcosa dobbiamo fare anche in emergenza qualcosa dobbiamo fare ma non solo per i turisti ma anche per i cittadini di Crotone che magari non possono permettersi di andare a fare viaggi di andarsi a fare delle crociere dobbiamo dare la possibilità anche a questi cittadini di vivere la propria città e di partecipare a quelli che sono gli eventi che sicuramente possono coinvolgere tutta la cittadinanza questo è uno dei miei obiettivi e spero di farcela Piazza Pitagora fiorisce rifiorisce grazie alla collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale di Crotone in particolare l'idea è stata lanciata sui social dall'architetto Enzo Frustacidi e subito sposata dall'amico Enzo Calzona della boutique Annì dopodiché è stata contattata l'assessore al verde pubblico Caterina Caccavari che si è resa subito disponibile quindi il sindaco Cucco Pugliese e l'assessore hanno immediatamente condiviso la proposta nata spontaneamente dalla gente sostenendola con grande attenzione una proposta che si è arricchita ora dopo ora del contributo di tanti cittadini che in ogni forma hanno collaborato per la realizzazione di quella che si presenta come una vera e propria azione di decoro urbano tra l'altro è stata realizzata una struttura floreale che ricorda il teorema di Pitagora simbolo della città di Crotone domani 5 luglio si terrà il congresso regionale e provinciale del sindacato di Polizia SIAP nel corso dello stesso si terrà anche la conferenza dal tema sicurezza e immigrazione l'evento si terrà alle 10.30 presso la sala Artemide del Best Western Hotel San Giorgio di Crotone in occasione dei campionati europei di vela Under 15 che si svolgeranno a Crotone dal 15 al 26 luglio prossimo la Conf Commercio Crotone in collaborazione con la Camera di Commercio il Club Velico e la CIA promuove la vetrina della vela l'iniziativa verrà presentata domani nel corso di una conferenza stampa fissata per le 17 presso la sede di Conf Commercio Crotone sereno visibilità ottima il vento di sette nodi il tempo previsto per domani su Crotone e provincia con 28 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 24 alla minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio tempo vento da nord ovest forza 3 con locali rinforzi e sereno poco nuvoloso visibilità buona localmente discreta in diminuzione mare mosso tendenza vento da nord ovest forza 2 sereno o poco nuvoloso bene la nostra informazione oggi è terminata grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie per la visione